Noemi, foto hot su Instagram eliminata, c'entra Totti. Video. Noemi Bocchi, fidanzata di Francesco Totti, lo scorso fine settimana era in vacanza con lui a Dubai. Totti era impegnato in un torneo di padel, la compagna era al suo fianco tramare. Sport e shopping. Durante un momento di relax in camera Noemi ha pubblicato una sua foto in bikini ma l'ha eliminata pochi secondi dopo. Troppo tardi perché qualcuno ha fatto in tempo a fare lo screenshot e l'immagine è diventata comunque virale. Non è chiaro se Noemi l'abbia tolta perché Francesco sarebbe stato geloso o perché non voleva alimentare polemiche. Ma certo ha messo in mostro un fisico scolpito ed è finito. Virgola.